Buon Pescato Siciliano è un progetto partorito insieme al mio amico Gavino Emilio Giacalone, presidente dell'organizzazione di produttori della pesca di Trapani e delle isole Egadi, con una finalità ben precisa, cercare di dare una maggiore valorizzazione alla produzione dei prodotti ittici di tutta la nostra flotta aderente a questa organizzazione. Abbiamo pensato di mettere in atto una serie di azioni che sono racchiuse in questo progetto chiamato Buon Pescato Siciliano, piacere di conoscervi, per cercare di migliorare la riduttività di questa piccola pesca che ormai da tempo soffre tantissimo. Tra le azioni previste da Buon Pescato Siciliano abbiamo pensato di produrre delle video lezioni che in realtà in maniera animata saranno poi trasmesse ai ragazzi sia del mondo della scuola primaria che secondaria e cercare di divulgare quanto più possibile cosa significa essere dei pescatori, cosa significa amare il mare e tutti i sacrifici che i nostri pescatori sono portati a fare per cercare di portare un po' di reddito per il soddisfacimento dei propri familiari. Grazie a tutti!